Oggi vi presento una nuova ricetta, una ricetta della cucina romana, leggermente rivisitata. Salti in bocca alla romana con scagli di tartufo, fiatto molto ricco. Gli ingredienti sono prosciutto, carne di vitellone, olio, vino, burro e tartufo. Passiamo al procedimento. Grazie a tutti. Il piatto è pronto, buon appetito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.